Quasi mezzo miliardo di euro per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2009 grazie ai finanziamenti per la ricostruzione privata approvati dal CIPES e tante reazioni perché il fatto rappresenta un forte impulso alla rinascita dei territori. Determinante l'impegno del ministro Musumecce e del suo staff, il finanziamento consentirà il recupero di molti paesi delle aree interne e anche l'avvio di nuove strategie per il ripopolamento e il rilancio turistico. Il presidente della regione Marco Marsillo l'ha ribadito più volte ed è soddisfatto anche il sindaco Pierluigi Biondi che ha parlato di una bella giornata perché per l'Aquila ci sono anche 2,5 milioni per la promozione della cultura e non solo, 479 milioni circa in totale di cui 445 per i 56 comuni del Cratere, diversi dal comune dell'Aquila 25 milioni per i 114 comuni fuori Cratere. Grande soddisfazione ovviamente da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del Cratere perché per il titolare Raffaello Fico si tratta della più a cospicua assegnazione di ricostruzione privata. Anche per il coordinatore dei sindaci del Cratere Gianni Anastasio è una boccata di ossigeno, si potrà andare avanti bene almeno per due anni. È una buona notizia anche per gli ordini professionali. Questo tranquillizza un po' da un lato la popolazione che stava un po' sulle spine, diciamo agitata in attesa di questi finanziamenti ma anche mi permetto per una volta di poter dire anche ai miei colleghi professionisti che potranno vedere coronato finalmente il lavoro che hanno fatto egregiamente con l'approvazione dei loro progetti ma purtroppo erano parcheggiati in mancanza di fondi. Adesso grazie a questa CIPES potremo avere dei fondi che sbloccheranno e faranno ripartire la ricostruzione in maniera adeguata perché il Cratere ne ha bisogno. Stava un pochettino patendo, era al palo, ha avuto una partenza un po' più difficile rispetto a alcune dell'Aquila, questo sicuramente sì, per ovvi motivi è normale e fisiologico che sia così. Finalmente con questi soldi potremo vedere ripartire anche importanti cantieri, grandi cantieri che erano bloccati anche da più di sei mesi per mancanza di finanziamento ma non per mancanza di approvazioni.